Ciao a tutti raga, no niente mi è capitato di vedere la DeLorean ufficiale, anzi una delle DeLorean ufficiali usate nel film Ritorno al Futuro e volevo condividere con voi il video vedrete la mitica DeLorean anche dall'interno come non l'avete mai vista e sarà molto strano vedere un mio video senza bestemmie, parolacce, zosserie prima che inizi il video vi consiglio subito di iscrivervi al mio canale per essere sempre aggiornati sui miei video dementi SIGLA 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 SIGLA